ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di contatori del tempo un episodio nel quale disquisisco puntata disquisitoria in quanto io vedo in giro sui forum nei video ovunque che spesso si utilizza il termine quando swatch compro omega longin tisso eccetera 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 e la cosa mi lascia sempre un pochino di dubbio perplessità in quanto si potrebbe anche divulgare una notizia poco veritiera perché non è propriamente detto che swatch inteso come orologi di plastica negli anni 80 compro tutte queste aziende famose non è propriamente così in senso lato lo si potrebbe anche intendere ma siccome è leggerissimamente più complessa la situazione mi piacerebbe fare un pochino di chiarezza divulgando tutta una serie di nozioni che vado a prendere sul mio laptop perché a memoria è impossibile e che possono essere una curiosità per ognuno di noi perché a noi non è che ci garbano solamente gli orologi pezzi del ferro con gli ingranaggi dentro ma è anche interessante sapere da dove vengono perché sono lì e poi tutta questa storia che c'è dietro ci porta poi anche ai giorni nostri a comprendere meglio la situazione attuale e anche perché ci sono determinate altre situazioni che poi magari vi spiegherò sulle quali non c'è bisogno di scandalizzarci più di tanto ora da dove si può partire in tutta questa storiaccia qua si può partire dalla prima guerra mondiale bisogna fare un passo indietro è un po complessa andrò a braccio sto andando a braccio non mi sono scritto niente indi per cui abbiate un minimo di pazienza e di comprensione se commetterò qualche papera come si suol dire allora bisogna iniziare dalla prima guerra mondiale laddove molte fabbriche vennero convertite per la costruzione di anche componenti per le armi da guerra semplicemente quello non tanto perché la svizzera fosse coinvolta in prima persona durante la prima guerra mondiale ma proprio perché il business della guerra è business quando conviene più fare pezzi per le spolette per le bombe o qualsiasi altra cosa ecco fatto che conviene vendere quelli gli orologi si andavano fino a un certo punto ma è bello anche guadagnare dei soldi sulla guerra cinicamente no quindi da lì però il grande botto venne nel 1929 quando ci fu la grande depressione la grande crisi economica che colpì tutto il mondo praticamente e che impiegò dei decenni poi per per la ripresa ok grande crisi crisi della dell'industria orologia era svizzera questo è poco ma sicuro quindi c'era ci fu la necessità di riunirsi e sotto un'unica bandiera diciamo così una sinergia una sinergia di aziende che si unirono nel 1931 esattamente sotto il nome di aswag non vi non vi dico l'acronimo a cosa si riferisce lo leggete perché è abbastanza difficile da pronunciare non vorrei inciampare in queste semplicissime pronunce e vi vado a leggere come fu la situazione allora aswag era un raggruppamento di aziende svizzere indipendenti di orologi e componenti sebbene si fossero unite sotto questo ombrello rimasero piuttosto indipendenti aswag consentiva alle aziende di stabilire congiuntamente i prezzi e limitare le esportazioni riducendo la concorrenza e aumentando la redditività del settore agiva anche per spingere le fusioni di aziende associate più piccole se necessario per supportare la produzione le banche svizzere investirono in aswag vedendo un modo per ricostruire la stabilità dell'industria orologiera svizzera il gruppo avrebbe incluso anche le eboche sa che a quel punto comprendevano la dozzina di più forti produttori di eboche ossia pezzi e pezzettini per costruire calibri insomma tutta una serie di aziende che anche più piccole che poi si fondevano una nell'altra delle quali non vi sto poi a dire tutti i particolari basti sapere che inizialmente fu fondata appunto le boche sa e poi nel tempo si aggiunsero altre aziende come peso glissine entra fa parte di aswag nel 42 vai giù nel 44 eterna nel 48 venus viene assorbita da vai giù come vedete c'è tutta una serie di passaggi è anche interessante vedere queste marche no che oggi conosciamo come si sono mosse in tutto in tutto questo secolo scorso nel 71 aswag inizia la creazione di general watch company per gestire la produzione di orologi completi sette aziende sono integrate tra cui certina edox eterna mido oris e technos più tardi nel 71 general watch co aggiunge longin proprietaria essa stessa di record e rotary guardate com'è complessa la cosa tutti sotto la bandiera di aswag poi nel 78 cima viene venduta eta sa e adolf shield si fondano per dar vita alla moderna eta insomma c'è tutta una serie di situazioni particolari addirittura nel 82 oris viene riorganizzata e scorporata tramite una un'acquisizione da parte del management faceva parte di aswag nel 82 eterna viene venduta alla post design e poi alla international volant ora city champ che nel 2012 cioè eterna è uscita da aswag già nel 82 e nel 83 edox viene scorporata ecco siamo arrivati già all 83 ora tutte queste case qua erano sotto aswag ma nello stesso momento nel 1931 nasceva anche un altro raggruppamento che era chiamato ss i h ok anche qua è un acronimo che ve lo vedete voi cosa c'è scritto fu fondata nel 1930 non nel 31 questa ss i h la cronologia dice che erano sentite bene perché un'altra noi lo sappiamo però ss i h omega e tisso sono le prime a fondare ss i h successivamente nel 30 si aggiunge le mania poi si aggiunge il 61 rayville e porta con sé il marchio blanc punk nel 71 viene integrata con marchi di orologi economici agon buller continental ferex anche marchi che poi sono scomparsi no facciamo una piccola riassunto dei marchi che facevano parte di ss i h omega mark favre rayville tisso ateos lanco lugrin le mania langendorf company che altri non è che lanco probabilmente e poi nel 78 c'erano anche a etos agon buller continental ferex emilton lanco le mania omega rayville e tisso ok questa è un'altra branca quindi abbiamo che nel 31 e nel 30 a suag ss i h sono due grandi gruppi che sono in svizzera arrivano fino agli anni 80 negli anni 80 quando questi due gruppi incominciano a sentire fortemente la crisi del quarto e primi anni 80 80 81 crolla la produzione drasticamente di orologi svizzeri vanno tutti in crisi tutti non c'è nessuno che si salva e cosa succede le banche iniziano a mettere capitale per salvare queste queste aziende no quindi si arriva a un certo punto che il 97 per cento di di una e dell'altra vengono sono in mano alle banche che stanno cercando appunto di salvarle per non veder disperso tutto questo know how si direbbe oggi no e viene incaricato a un certo punto una un'azienda esterna cui c'era capo nicolas hayek per ristrutturare il tutto e la prima cosa che fa nicolas hayek è che unisce aswag e ss i h li unisce sotto un unico nome che viene chiamato sm h ed in questo momento qua incomincia a tagliare i rami morti ecco dove scompaiono certe certi brand come l'anco che scompare rimane no e nell'83 l's m h decide di produrre grazie al genio di nicolas hayek gli swatch gli orologini di plastica quindi fonda swatch e producono questi orologini che nel tempo nei primi anni vendono milioni di pezzi e con quei soldi lì riesce a ripagare le banche dai debiti che avevano tutte queste aziende sia l's si h che l'aswag che poi quel punto lì si chiama sm h se noi andiamo c'è la fondazione della swatch sa cioè nel 84 viene viene fondata il marchio che fa gli orologini nel 85 la il gruppo aswag ss i h viene rinominato sm h tutte le filiali di eboucher sa nel 87 vengono riorganizzate sotto età sotto età e una cosa successiva invece al gruppo sm h anche nel 92 viene acquisita blanpan e frederic piguet solamente dopo questi due sono questi due marchi che sono stati acquisiti dopo da sm h quindi alla fine di tutto questo poi nel 1998 il gruppo che cambia nome da sm h a gruppo swatch come lo conosciamo oggi ma nel 98 ben 15 anni dopo il lancio degli orologini di plastica quindi non sono gli orologini di plastica che comandano perché il gruppo sm h è sempre stato a capo di tutto semplicemente ne hanno chiamate gruppo swatch perché swatch è la contrazione di swiss watch e per rendere merito a gli orologi swatch che avevano salvato e tutto il gruppo ma non è che è swatch orologini di plastica che ha comprato gli altri brand esisteva già il gruppo prima del lancio degli swatch è il gruppo stesso che ha lanciato gli swatch e poi dopo con i soldi fatti ha ripagato le banche che erano dietro quindi salva il salvataggio sì ma l'acquisto vero e proprio no e tutto questo cosa ci può portare a ragionare che le sinergie le sinergie azientali esistevano già dal 1930 avete visto quanti marchi sono entrati usciti da questi gruppi rimanendo pur sempre indipendenti ma c'erano già delle sinergie gigantesche a un certo punto si fondono tutti sotto eta i marchi cambiano nome e entrano sotto un'altra ombrello quindi quello che noi vediamo al giorno d'oggi non ci deve scandalizzare come ad esempio che nissi che è creato da tudor con la partecipazione di chanel con la partecipazione piccola di brightling poi gli stessi calibri vengono forniti a norkane a fortis a chi vi pare a voi anche a terzi non c'è da scandalizzarci sono da sempre esistite queste situazioni qua oppure lo stesso gruppo swatch adesso che ha i marchi importanti e in comune hanno i calibri hanno delle situazioni in comune è normale pur rimanendo indipendenti ognuno il suo marketing e il suo poi fanno tutti capo al gruppo swatch ma è normale come gli altri gruppi lvmh tutto quello che ti pare a te sono sempre esistiti e sempre esisteranno allo stesso modo ci viene in mente magari le jeu per re che fa i calibri di citizen e miota li trasforma in svizzeri poi li vende anche a terzi e così via è sempre esistito quindi non dobbiamo scandalizzarci quindi il punto qual era le due grandi aswag ssih che camminano parallele fino al 1980 nel dopodiché vengono fuse nella smh che lancia gli swatch e nel 98 cambia nome in gruppo swatch questa è tutta la cronologia dell'industria svizzera una parte dell'industria svizzera degli orologi che noi conosciamo oggi quindi io a me mi sembra di aver fatto un'opera piccola opera di divulgazione non è un video lungo forse anche un po complicato e intricato ma io vi lascio vi lascio sotto al video i link da dove ho preso le informazioni per cui ve li potete studiare e farvi un'idea di tutti i brand che sono entrati usciti fusi le magna faceva parte di omega a un certo punto poi non esiste più è interessante da sapere anche per avere le idee chiare e non cadere in quella semplicistica frase swatch ha comprato omega rogin e tesso che è veramente riduttiva ragazzi a me mi sembra di aver detto tutto spero che questo video un pochino differente e culturale come si suol dire vi sia piaciuto se così non fosse ce ne faremo una ragione e andremo avanti la mia opera di divulgazione l'ho fatta vi ricordo gli appuntamenti fisiche come sempre sono quando voglio io il più spesso possibile qui su youtube l'ho fatta vi ricordo l'ho fatta vi ricordo